ciao e bentornati come promesso vi faccio un secondo video di giornata sono le ore 13 in punto tiriamo un po le somme di quello che sta succedendo o meglio che non sta succedendo nel video di stamattina mi sembra di essere stato molto chiaro riguardo al mio pensiero su il discorso della cessione di ronaldo e l'acquisizione in prestito di ken quindi non spenderò altre parole su questa cosa vi invito ad andare a vedere il video di stamattina nel frattempo cos'è successo come previsto abbiamo dato in prestito i giovani altri giovani abbiamo sostanzialmente dato via fagioli alla cremonese ranocchia al vicenza e dragusin alla sampdoria io vi metto qui di fianco alla mia facciona un riepilogo che ho preparato prima vi faccio vedere gli out cioè chi ha lasciato la juventus questa quest'estate chi svincolato chi venduto solo ronaldo e chi in prestito una marea di gente subito dopo vi faccio vedere chi è arrivato quindi i ritorni dai prestiti degli anni passati e gli acquisti ok questa è la situazione che voto date in questo momento al mercato della juve allora ripeto sono le ore 13 mancano diverse ore perché il mercato in entrata finisce alle ore 20 e poi per le successive quattro ore si può ancora vendere all'estero in tre campionati in modo particolare anche di questo ve ne ho parlato nei video di stamattina però da quello che stanno scrivendo in questi minuti i giornalisti mercatari il mercato della juve finisce qui lo hanno scritto è quello che sanno lo scopriremo molto presto se se è così o meno perché se la juve sta veramente lavorando sotto traccia per qualcuno magari loro non lo sanno i giornalisti quindi diamogli il beneficio del dubbio fino alla fine ma io sono molto molto deluso molto 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 deluso tanto che oggi per me in quanto gestore di questo canale e appassionato di calcio mercato era erano mesi che aspettavo l'ultimo giorno del mercato per poter stare con voi tante ore per poter magari fare una bella live di 3 4 ore non sto scherzando una non stop in diretta fino a stasera tardi per parlare di mercato sapete che cosa c'è io vi voglio bene perché siete i miei iscritti anche chi non è iscritto vi voglio bene lo stesso però non ho l'umore adatto non ho veramente l'umore adatto per stare qui su youtube ore per parlare del nulla io in copertina ho messo i tre acquisti della di quest'estate quindi caio giorgi giovane prospetto brasiliano giovanissimo ma in questo momento infortunato starà fuori un mese pagato pochissimo e cercheremo di capire come lo impiegheremo locatelli che per me è un ottimo arrivo l'ho sempre sostenuto e lo ho sempre detto che però non era sufficiente per fare fare il salto di qualità alla juve che ha detta di tutti soprattutto gli esperti di calcio quindi non io ma per esempio fabio capello ma è un è solo un esempio che mi viene in mente negli ultimi anni hanno criticato il centrocampo bianconero a buon a buon ragione quindi locatelli da solo non basta e poi ken moise ken a me di moise ken mi turba solo l'aspetto del del contratto solo l'acquisizione solo questo prestito le cifre mi sembrano folli secondo me potevamo fare qualcosa di meglio da quel punto di vista ma non critico il calciatore sono molto contento io moise ken non l'avrei mai dato via due anni fa è stato un errore diciamo era una necessità come fu la necessità di fare plus valenza con canselo che poi alla fine ritorna da noi io voglio ribadire il concetto di chi non ha ancora visto il video di stamattina manca progettualità manca una visione stiamo riprendendo spesso personaggi calciatori del nostro passato come se non avessimo visione di come si sta muovendo il mondo da un punto di vista finanziario sono molto preoccupato da un punto di vista gestionale della non dico della nuova dirigenza ma della dirigenza in generale perché è vero che cherubini arriva bene sono nuovi e quindi non gli si può addossare a loro delle colpe del passato ma la dirigenza juve di base nasce da elkan ad agnelli a nedved che ci sono sempre stati così come ci sono sempre stati tanti collaboratori anche all'interno degli uffici mi hanno deluso come gestione potevamo fare molto meglio io ho l'impressione ragazzi che ci siamo lasciati prendere alla sprovvista che è gravissimo dalla di partita diciamo così di cristiano ronaldo era scontato che un giocatore col contratto in scadenza nel 2022 rischiava di andare via quest'estate ci siamo fatti prendere in contropiede a me sono arrivate addirittura delle voci dallo staff di allegri che non se lo aspettavano loro erano convinti che ronaldo rimanesse voi capite se se è vera questa cosa quanto è grave questa cosa perché una società come la juve deve avere le spalle coperte deve avere dei piani b pronti da tirar fuori dal cassetto e mettere in pratica ci sono stati dei colpi di coda negli ultimi minuti prima che mi collegassi con voi ancora i nomi di cardi e di pianici ultimi tentativi poi alla fine pianici dopo pochi minuti e da questa da questa notizia è pare essere completamente tramontato quindi nemmeno pianici da quanto ci riferiscono i giornalisti che sono lì sono lì a fare il loro lavoro poi mi rendo conto che qua di minuto in minuto cambiano le cose anche loro giustamente a volte vengono accusati di dire delle stupidaggini ma non è colpa loro perché il mercato è un delirio e gli ultimi giorni di mercato lo sono ancora di più loro fanno cercano di fare cronaca in diretta a volte cercando di anticipare le notizie rispetto agli altri colleghi e ovviamente dopo magari cinque minuti vengono smentiti però questo è il loro lavoro bisogna cercare di non impazzire dietro le notizie che ci passano i giornalisti soprattutto nelle ultime ore di calciomercato sembra invece falsa la notizia che ieri una delegazione bianconera era a parigi perché è una cosa smentita da più da più parti poco mi importa non mi interessa di io non sono il classico tifoso che traccia i voli per capire se un certo giocatore in questo momento sta sorvolando il senegal a me cosa mi interessa di tracciare il volo a me mi interessa quando un giocatore arriva mi interessa quando un giocatore firma un contratto mi interessa quando un giocatore scende in campo e lotta per la juve di tracciare il volo sinceramente perché lo dico perché so che tanti di voi gli piace sto giochino ragazzi c'ho 41 anni ho di meglio nella vita mi diverto con altre cose e mi piace la concretezza sono una persona pragmatica mi piace vedere una cosa fatta e finita poi anche a me piace sentire le voci di mercato altrimenti non farei calciomercato su questo canale però spaccarsi i maroni il cervello e passare la notte a cercare la delegazione juve a parigi ma chi se ne frega ragazzi io alla fine devo vedere chi porta chi porta nessuno e allora per me possono essere andati a parigi o a cinisello balsamo a poggi bonzi o a giarre che è vicino a catania lo dico per chi non lo sapesse chi se ne frega a me quello che mi importa è quale calciatore mi porti dirigente nessuno allora è arrivato nessuno fine poi dove sei andato sono fatti tuoi torniamo a noi che voto date a questo mercato fino a in questo momento perché il video è l'una e 04 ok aspettiamo l'ultimo pomeriggio vediamo che cosa ci rivelerà questo questo universo mercataro se ci porta qualche clamorosa notizia a proposito e chiudo il video nicola balice che secondo me è uno dei migliori ha tweetato poco fa che il l'obiettivo 2022 è vlaovic io ci credo è vero che detta oggi è fuori luogo fuori contesto chi se ne frega del 2022 direte tutti l'ho detto anche io è detto sinceramente però è solo per avvertirvi se veramente l'obiettivo 2022 per l'attacco e vlaovic non parliamo più di holland perché come mi è stato riferito a me poi magari non sarà così non andrà alla juve non verrà alla juve è già promesso sposo di un'altra squadra poi un giorno ne parleremo quindi non spacchiamo cimaroni adesso con pogba holland ne parliamo l'estate prossima il calciomercato sta per finire siamo tutti molto delusi ci aspettavamo dei rinforzi e io ripeto sono contentissimo perché non dovete fraintendere sono contentissimo dell'arrivo di ken di locatelli e molto curioso su caio giorgi ma mi aspettavo una cosa diversa che non vuol dire comprare i campioni tirar fuori 100 milioni a giocatore ma significa fare un mercato migliore per il centrocampo consolidarlo perché quella quel reparto del campo è nevralgico e non siamo forti e poi non abbiamo fatto niente sul terzino sinistro che è un mio cruccio da anni ancora una volta niente ragazzi ci aggiorniamo presto stasera sicuramente vi farò un video di chiusura di commento del calciomercato probabilmente tardi dopo cena così vediamo di avere le ultime notizie e poi da domani in poi avremo tutto il tempo di commentare quello che abbiamo visto o non abbiamo visto ciao ragazzi e sempre forza juve ciao 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 ciao